La Regione Campania ha respinto i ricorsi relativi al rinnovo degli organismi nel consorzio di bonifica di Pestum operato da tre candidati non eletti nel corso dell'ultima tornata, rispettivamente Enrico Barlotti, Vincenzo Fraiese e Vincenzo Gravina. La richiesta era quella di annullare le elezioni dello scorso 16 giugno. Alla strego dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e dall'espressa dichiarazione di irregolarità sottoscritta dal Direttore, è stata dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi, ha fatto sapere Palazzo Santa Lucia con un'apposita delibera. Sulla scorta dell'analitica d'esamina dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali e alla luce della normativa vigente della giurisprudenza di riferimento, le richieste sono state definite non accoglibili, stante l'inammissibilità ed infondatezza delle contestazioni riportate, non supportate da adeguato corredo probatorio. In ogni caso due ricorrenti, Enrico Barlotti e Vincenzo Fraiese, che sono rappresentati dall'avvocato Marcello Feola, hanno deciso di rivolgersi anche al Tratr e dal Tribunale Civile di Salerno. Quindi la battaglia prosegue. Nei mesi scorsi il consorcio di bonifica di Pessum aveva emesso un comunicato a difesa delle elezioni tenutesi e della governance riguardo la questione di corsi. In merito alla posizione dell'ex presidente e l'eletto consigliere Roberto Ciuccio, con propria nota in data 5 aprile 2024, con grande senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, lo stesso si è autosospeso dalla carica esecutiva, ancora prima della notifica del provvedimento di sospensione del prefetto di Salerno. A seguito di ciò, l'ente, al fine di valutare il corretto iter procedimentale da porre in essere il ragione della sospensione del presidente protempore, ha inteso assumere un parere proveritate da un avvocato esperto in diritto amministrativo, il quale, tra gli altri, ha concluso anche sull'inesistenza di norme giuridiche, nonché statutarie e regolamentari, che viedino all'ex presidente di ricandidarsi legittimamente all'elezione del Consiglio dei Delegati. Infine, in merito alle accuse di presunte irregolarità nelle recente elezioni paventrate ai ricorrenti, si rappresenta confermezza che l'intero iter amministrativo, dall'indizione allo scudinio, è stato caratterizzato dalla massima trasparenza, regolarità e legalità. L'ente si riserva, dunque, di intraprendere ogni azione a tutela del proprio prestigio istituzionale, da esperire nelle sede competenti, nessuna esclusa. Dati ricorsi effettuati, sicuramente ci saranno altri capitoli giudiziari e amministrativi della vicenda. Alle ultime elezioni consortili, l'elenco dei garantiti diritto al voto sono stati in tutto 15.846 e la composizione delle quattro fasce di contribuenza, 12.630 elettori per la prima, 712 per la seconda, 982 per la terza e 1.522 per la quarta, sono state prerisposte sulla base delle risultanze del cadastro consortile. Nella prima fascia sono stati eletti tre delegati, nella seconda 6, nella terza 2 e nella quarta 1. Gli elettori sono stati divisi in nove comuni, ovvero Capaccio Pessu, Magropoli, Giungano, Cicerale e Togliasso Cilento, al voto presso la sede consortile di Capaccio Scalo, Albanella e Rocca d'Aspide, alle urne presso la sede di staccata di Matinella, Serre ed Altavilla Silentina, al voto presso la sede dell'ente ad Altavilla Silentina.